Cosa si fa? Essere tranquilli, avere fiducia nel domani, fare i nostri progetti? Sì, viviamo in un pianeta che va in giro per l'universo con una scheggia. Estemporanea, questo è forse l'unico aggettivo che può qualificare pienamente la comicità di Paolo Endel, impegnato in questi giorni al Teatro Parioli di Roma con lo spettacolo Nebbia in Val Padana. Come nella migliore tradizione della commedia dell'arte, Endel approfitta di eventi e situazioni accaduti in giornata, improvvisando su di essi commenti ironici, satirici e umoristici che garantiscono al pubblico due ore di buon umore. E così, partendo dai grigi pensieri che possono scaturire durante una giornata di nebbia fitta, Endel arriva a delucubrare considerazioni filosofiche anche sulle più piccole superficialità della vita quotidiana. Paolo Endel con la sua Nebbia in Val Padana rimarrà al Teatro Parioli di Roma fino all'11 dicembre.